Vede collega, io penso che non bisogna nascondersi dietro cose che sono diverse da quella rispetto alla quale noi stiamo discutendo in quest'aula. Lei parlava di bullismo e diversi, immagino, all'interno di quest'aula da bambini sono stati bullizzati per le ragioni più disparate. Io venivo bullizzata perché ero particolarmente sovrappeso. E penso che se lei chiedesse in quest'aula chi vuole combattere il bullismo troverebbe il 100% dei colleghi che votano a favore di norme che consentano di combattere il bullismo. Ma lei inserisce e voi inserite questa materia in una legge che tratta questione molto specifica perché, collega Zan, come si spiega esattamente a un ragazzino di 10 anni cosa sia il genere? Atteso che lo possiamo negare oppure no, ma c'è un legame tra la percezione di sé del proprio genere e l'attinenza sessuale che si sviluppa successivamente all'età delle quali stiamo parlando. Allora, qual è il problema? Io non so come lei immagini e come voi immaginate queste celebrazioni o questi momenti, ma temo che non si possa sfuggire dalla questione quando ci si ritroverà. Allora, la domanda che io faccio è, si è mai chiesto perché l'educazione sessuale non sia entrata a scuola? Si è mai chiesto perché lo Stato italiano abbia ritenuto in tutti questi anni di non trattare un tema che incide sulla nostra formazione al di sotto di una determinata età? E non corriamo il rischio in assenza di una educazione sessuale che racconti la realtà nella sua completezza e nelle sue diversità, che raccontare solamente questo aspetto delle inclinazioni e dei gusti diventi in realtà una esaltazione di uno specifico fenomeno. Non diventa questo indottrinamento perché io temo che questo sia, soprattutto se fatto verso persone che non hanno elementi critici per difendersi.